Il governo Renzi tira dritto per la propria strada e vuole chiudere diversi uffici postali in provincia di Lecco. Voi come rispondete? Non accettiamo la chiusura di sette uffici postali. Possiamo capire la volontà di poste di attuare una razionalizzazione, ma non ci sta bene questo piano che va a chiudere uffici postali di zone periferiche e soprattutto di frazioni montane. È inaccettabile, sono frazioni che sono mal servite dal trasporto pubblico locale, che con i tagli del governo Renzi avrà sempre meno corse. Non possiamo accettare che come compensazione ci siano portalettere con palmari perché i nostri anziani non sono muniti di carte di credito e di bancomat. Quindi la Lega Nord lavorerà ancora. Dopo una fase di presentazione e di interrogazione alle quali non è mai stata risposta, abbiamo presentato una mozione, chiederemo la prossima settimana che venga calendarizzata nell'aura e lì vorremmo stanare tutte le forze politiche perché con questa mozione noi chiediamo come minimo di sospendere l'attuazione del piano, 13 di aprile, e soprattutto di rivedere i criteri per salvaguardare le zone deboli, quindi soprattutto le frazioni montane.